we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi un sacco di novità per quello che riguardano le ultime 24 ore di fortnite c'è un gameplay che sta girando da poche ore incredibile si vede che fortnite che lo staff di epic games ha deciso in queste vacanze di natale di lavorare sull'implementazione di nuove armi anche ieri abbiamo visto quello che sta per arrivare ovvero sia la personalizzazione di tutte le armi presenti in gioco ma oggi ho un gameplay uno spezzone video davvero incredibile di una nuova mitraglietta esotica parleremo anche di molti leaks e non voglio portarvi via tempo ma voglio ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi che si tratta della bangra boogie emote la bangra boogie and the other bangra cup prices perché vi ricordo che nella cup di bangra boogie ci sono stati dei regali la il ballo lo spray se non ricordo male anche un background musicale potrebbe arrivare intorno al 30 quindi oggi o domani nello shop per adesso è ancora un'esclusiva dei partecipanti alla cup vi ricordo che le moto di cui stiamo parlando è proprio questa quindi la banana in poche parole che se la balla violentemente con un background musicale molto indiano tra l'altro questa informazione arriva direttamente da un intervista che hanno fatto poche ore fa con il produttore della canzone e tra l'altro vi voglio ricordare che la bangra cup e fortnite è la prima collaborazione in assoluto con un artista indiano quindi ragazzi prepariamoci a vederla nello shop per tutti quelli che non sono riusciti a prenderla nella coppa sarà probabilmente disponibile e quindi potrete aggiungerla al vostro armadietto ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è un caso eclatante di rimozione di una delle skin della icon series che sarebbero dovute arrivi che sarebbe dovuta arrivare in quest'anno o meglio nell'anno che sta per arrivare il 2021 la skin di greg ve ne avevo parlato un mese fa lui stesso greg ragazzi è uno youtuber spagnolo con qualcosa come 16 milioni di iscritti che aveva anche spoilerato probabilmente gli avevano detto di farlo un pochettino la sua skin aveva un cuscino con proprio il disegno aveva fatto dei video dove mostrava alcune parti e giustamente la community era molto in hype anche perché fino ad adesso le skin delle icon series sono tre quella di ninja quella di loser fruit e quella di lachlan perché hanno rimosso la skin di greg intanto eccolo qua lui proprio nel suo ultimo video che è abbastanza contrariato giustamente sul fatto che gliela abbiano rimossa non è ben chiaro in realtà sembrerebbe che durante una sua live lui non è che abbia proprio speso delle belle parole verso epic games in quanto diceva che continuavano a ritardare l'uscita della sua skin molto probabilmente non è stata presa tanto bene dalla community quello che ha detto tanto meno dallo staff di epic games che quindi ha deciso la rimozione quindi ragazzi per adesso le skin delle icon series rimarranno tre e peccato per il greg che ha perso la sua occasione d'oro e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché su netflix sta arrivando ah è vero un altro spezzone che mi sono dimenticato di farvi vedere ce l'ho qua ragazzi su netflix sta arrivando una nuova serie che si chiama carmen san diego carmen san diego in realtà noi in italia l'abbiamo visto agli inizi degli anni 90 a metà degli anni 90 era un programma che facevano sulla rai io lo guardavo ero piccolino praticamente parla di una rapinatrice che viaggia nel tempo e in tutto il mondo rubando le più grandi opere appunto mai create cosa c'entra con fortnite c'entra e come perché guardate nel trailer si vede l'agent johnsy il nostro johnsy eccolo qua ragazzi il trailer come vedete vi faccio anche ascoltare è molto bassa ma eccolo qua ragazzi come vedete questo è l'agente johnsy che parla e tra l'altro il libro che tiene in mano mi sono permesso di mettere un attimo in pausa il video sembra che mostri un logo che noi in realtà abbiamo già visto su fortnite non vi ricordo un pochettino la skin oro non si capisce bene ovviamente quale sia il il nesso con fortnite però questo qua sembra donald mustard ragazzi questo qua sembra il signor donato mostarda la cosa davvero interessante appunto la capiremo non appena sarà disponibile su netflix la serie in arrivo e chissà che magari la skin di carmen san diego non arrivi su fortnite tra l'altro è proprio l'agente johnsy perché lo chiama proprio johnsy e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi eccolo qua ragazzi il topic clou del video upcoming upcoming exotic weapons signori sta per arrivare una nuova arma esotica io vi consiglio se non avete niente da fare provate a giocare una partita con le armi esotiche ne prendete una la provate perché sono davvero molto divertenti la nuova arma si chiamerà run gun smg quindi è una mitraglietta increases your running walking speed in poche parole una volta che noi la prenderemo perché molto probabilmente ci sarà un npc che ce la potrà vendere andremo più veloci la nostra il nostro movimento sarà più fast la cosa che viene detta in questo post è io tra parentesi io avevo uno spezzone di gameplay ma l'ho cancellato velocemente per evitare appunto problemi ovviamente l'oxyder l'ha trovato lo spezzone del gameplay e prima di farvelo vedere vengono menzionate altre due armi che stanno in produzione il freeze ar quindi un mitra una r con la possibilità di rallentare il movement del nostro avversario e lo slarp bazooka questo ne parlano davvero da tanto ma senza indugiare guardate ragazzi lo spezzone della nuova mitraglietta ed eccolo qua è davvero è davvero incredibile abbiamo già visto ovviamente una minigun in game quella corta la rapid fire smg se non ricordo male si chiamava ma questa essendo esotica darà appunto uno sprint in più al nostro personaggio io non vedo l'ora di vedere meglio in game quest'arma spero che il video delle news di oggi vi sia piaciuto vi ringrazio per averlo guardato mi raccomando ragazzi lasciate un bel like a questo video un commentino per aiutarmi a mandarlo nei consigliati noi ci vediamo in live su twitch ciao